Ciao a tutti, sono Laura Lodi e sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. Quello di oggi è un video a tema spesa sana sostenibile presso il supermercato S.Lunga. È il primo di tre video a tema colazione e la colazione che vedremo oggi è la colazione dolce. L'idea per questa colazione è un semplice latticino che può essere latte o yogurt, magari abbinato a della frutta, con del pane o pane secco con una crema di nocciole. Mi raccomando, le informazioni ovviamente sono aggiornate oggi, quindi vi consiglio di guardare sempre nella descrizione di questo video per vedere se ci sono degli aggiornamenti su prodotti o lista di ingredienti. Inoltre vi consiglio di vedere il mio blog su www.spesacolladietista.it per vedere se ci sono delle altre informazioni, visto che di solito aggiungo qualche informazione in più sulla lettura delle etichette e su qualche prodotto da poter scoprire. Entriamo nello specifico della mia spesa guardando per primo i latticini. Quindi vediamo il latte, il latte alla dicitura, il latte a fieno, tutti i prodotti che ho preso hanno la dicitura e il latte a fieno perché c'è una nota in più riguardo anche il tipo di allevamento che ho utilizzato, il tipo di mangime che viene utilizzato. In questo caso non vengono assolutamente usati gli insilati, però diciamo che si avvicina sempre di più a quello che potrebbe essere un vero latticino grass-fed, cioè di animali nutriti al pasculo e libero. Ovviamente forse pian piano nel tempo riusciremo a aumentare sempre di più la qualità del prodotto, però questa è una delle poche diciture che troviamo e finalmente riusciamo a trovare anche al supermercato. Quindi questo secondo me è il latte comunque migliore che potremmo trovare come supermercato. è un latte fresco che dura un po' più giorni e si trova nel reparto frigo. Abbiamo due latticini con questa dicitura, lo Sky, che è una sorta di yogurt greco più proteico del classico yogurt, tende ad essere magro perché non hanno appunto utilizzato dei latti grassi, quindi infatti qua c'è scritto latte a fieno scremato o pastorizzato e di norma c'è solo l'aggiunta dei fermenti lattici appunto perché è un latticino fermentato. Di solito consiglio di più lo Sky rispetto al yogurt greco proprio perché è più latticino fermentato mentre a volte lo yogurt greco vero non lo troviamo ma troviamo una sorta di rielaborazione nostra che possiamo poi consumare, nel senso che però non è il vero yogurt greco e non è un vero prodotto fermentato. Questo invece ci si avvicina molto di più e può essere sia lo Sky che lo yogurt biologico. Quello della ripetena mi piace molto perché è in vetro, c'è solo il tappo di plastica mentre questo qua dello Sky tende ad avere comunque una parte in plastica in alluminio e in carta, quindi sono più pezzi. Vediamo quello dell'esterunga, quindi tipico del proprio prodotto del supermercato. La lista degli ingredienti è buona, c'è il latte anche qua a fieno più i fermenti quindi non c'è dello zucchero aggiunto. Anche qua forse spiegato meglio che negli altri c'è proprio scritto che cos'è il latte a fieno quindi mi è scritto bene cosa mangiano, quindi che non vengono utilizzati i prodotti OGM. Insomma anche questo di buona qualità, è tutta plastica, alluminio e cartone però può essere buono anche questo, sempre naturale e sempre da poter consumare a colazione. Vediamo invece per la parte carboidrati. C'è sia la versione pane che di solito io consiglio di preferire il pane rispetto a delle fette biscottate proprio perché se ci fate caso non ci sono fette biscottate perché almeno in quel supermercato non ho trovato delle fette biscottate che consiglierei come alimento a quotidiano o comunque da consumare spesso. Preferisco sempre suggerire, se è possibile, un prodotto comunque da forno o fatto in casa e in questo caso quello che ho trovato abbastanza buono è questo pane qua è un pane integrale in cassetta e come ingredienti c'è la farina di granutano integrale l'olio extravergine d'oliva italiano e l'avviso di birra sale ed estrosio quindi c'è sia sale che un po' di zucchero ma tra gli ultimi ingredienti c'è comunque l'alcol perché tutti i prodotti in cassetta confezionati vengono praticamente trattati con alcol ma una volta tostato l'alcol evapora quindi si può consumare tranquillamente e questo prodotto tende a essere, c'è l'indicazione di biologico ma è sempre di agricoltura Unione Europea e non Unione Europea quindi non è 100% italiano ma non ho trovato altre valide alternative da poter suggerire questo potrebbe essere buono come prodotto e lista di ingredienti ci sono degli ingredienti di solito peggiore qua come grasso alla fine troviamo solo l'olio extravergine d'oliva italiano quindi è comunque un buon alimento tra tutti quelli della stessa categoria che comunque a volte hanno aggiunte ulteriori, magari più tipi di zuccheri e magari altri tipi di grassi come altri prodotti sicuramente non italiani abbiamo le due tipi di vasa mi piace di più come lista di ingredienti quella integrale perché ha proprio solo due ingredienti ha solo la farina di secale integrale e sale sono abbastanza salatine anche queste rispetto a quello dei precedenti video che erano abbastanza simili come prodotto però hanno comunque uno 0,88 grammi di sale per 100 grammi di prodotto una fetta a 0,08 grammi di sale quindi direi sicuramente che possa essere consumato quello invece originale che di solito tende a piacere un pochino di più se andiamo a vedere la lista degli ingredienti in realtà è un pochino più lunga perché oltre alla farina integrale di segale ha la farina integrale alla farina di segale normale perché non è integrale ha però anche lievito e sale cosa che non hanno l'altro tipo di prodotto quindi se comunque vi piacciono ugualmente consiglio di più quell'altro tipo di prodotto comunque ricordo non è italiano e ha il packaging quello tutto di carta quindi almeno è abbastanza riciclabile e sostenibile non vedete del pane preso al forno del supermercato perché attualmente ancora non sono riuscita a trovarne uno che consiglierei con frequenza abituale perché non c'è lievito madre o se c'è lo viene utilizzato solo come aroma quindi un aroma insomma un pochino più particolare però comunque non abbastanza da poter consigliare da consumare tutti i giorni quindi magari potete preferire anche altre scelte alimentari un po' più semplici quando è possibile andare al forno come ultimo vi consiglio una crema spalmabile che non è una marmellata che non è una cosa addolcita ma è semplicemente una crema 100% nocciole infatti nella lista ingredienti c'è scritto proprio 100% nocciole quello che ho notato di un po' più particolare è che quello di questa marca che si trova appunto lì a parte avere un costo più contenuto rispetto ad alte creme 100% di altri posti l'unica però che sono indicate con 100% italiano è solo questa alla nocciola quella di pistacchio e quella di mandorle invece attualmente non è 100% italiano probabilmente lo diventerà siccome confezioni più vecchie di questo prodotto mi sembrava non avere prodotti 100% italiani invece questo sì quindi ve lo consiglio comunque se dovete scegliere tra i tre prodotti prendere quello alle nocciole perché almeno sono nocciole italiane quindi consigliatissimo in ultimo vi cito brevemente la frutta questi sono kiwi che ho preso sfusi non sono biologici anche lì il biologico tende ad essere confezionato sotto plastica in questo caso visto che prima ci sono i frutti sfusi poi ci sono quelli confezionati ho deciso di prendere direttamente questo sarebbe meglio magari prenderlo biologico o comunque l'importante è che sia sempre indicata l'indicazione appunto italiano questo lo erano e quindi sono stati stati i kiwi da poter utilizzare nella ricetta spero di aver reso la vostra spesa ancora più sostenibile anche all'esse lunga se utilizzate prodotti diversi da questi fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche se vi piace l'abbinamento e che altri tipi di abbinamento fareste con questi stessi ingredienti e mi raccomando iscrivetevi poi al mio canale fatemi sapere con un like che vi è piaciuto questo video e seguitemi poi sugli altri social Instagram e Facebook non mi resta che salutarvi e invitarvi a guardare i precedenti video e aspettare il prossimo video che pubblicherò e niente buona salute e buona visione Grazie a tutti